A presenziare la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della mezza di Treviso c'era il sindaco Giovanni Manildo pronto a vestire i panni dell'atleta e a scendere in gara assieme ai 2500 partecipanti. Senz'altro ha un percorso splendido, un percorso che parte dalla città di Treviso, va nel parco della provincia, il parco del Sile passa per i comuni di Treviso, Carbonere e Silea, è un tracciato assolutamente splendido, è veramente il paradiso per le persone che corrono, io corro insieme agli amici, quindi oltre all'aspetto agonistico degli atleti ho sentito che vengono degli atleti con tempi incredibili, c'è anche la dimensione della sfida con se stessi ed è bellissima questa mezza di Treviso, l'aspettiamo con gioia, questa terza edizione sarà sicuramente un successo. Runners da tutta Italia, parliamo di questa iniziativa, Musei Aperti. La collaborazione tra la cultura e lo sport è assolutamente vincente, faccio un applauso agli organizzatori che ci hanno proposto questa convenzione, quindi per i partecipanti alla mezza ci sarà la possibilità di andare a vedere i musei con un prezzo assolutamente agevolato e questo è un bel modo per promuovere il nostro territorio, sono molte le persone che vengono a correre la mezza da fuori Treviso, quindi avere la possibilità oltre di apprezzare i nostri angoli del Sile e anche vedere le opere d'arte dei nostri musei penso che sia un'operazione vincente di promozione del territorio.